guarda dove me l'ha buttato ero lì già così bravo questo ho sentito stronzo stronzo bastardo dai raddrizzalo al posto di dire così no te basta è qua che va bene ecco vedi come una ruspa cazzo ma c'è il buco qua dici che lo buttiamo giù dici che lo buttiamo giù dici che lo buttiamo giù e si muove no? che cazzo se si muove muove di bestia no lì non va bene lì non ci sta proprio e vuoto no c'è stato un boccio rotondo c'è stato un boccio rotondo dai su li va di lì che questo cade dentro dai sì dai su tre due uno oh ma di qua o di là allora dai e non riesco da solo eh Marco ci ha pa' di lì dai tre due uno vai minchia minchia ragazzi lì è già più basso lì speriamo che lo utilizzi potremmo se verrebbe giù lì non va bene quel boccio di lì lo va bene oh là bisogna buttarlo dentro nel buco lì tanto fra una settimana non ci fa più un cazzo qua bisogna solo sperare che scende un po' di roba dalla riva e la riempie e basta cioè tu dimmi chi cazzo l'ha fatto quel buco eh sì per forza per forza adesso di lì è un altro mondo rispetto a prima figaro cioè adesso di la strada adesso quella roba lì scende si riempie e basta eh ma devi picchi dentro eh sì adesso forse ci passi così dai dai va bene basta brava basta va bene mettigli la barriera ecco preciso nel passaggio e fa il passaggio minchere ma che questo cioè dici che va giù Vito potrebbe anche andare se avevamo un leverino poi non lo spostavamo questo spampi spampi questo deve avere un profumo senti me che ti duno leggetti eh deve avere un profumo esagerato e vai a casa c'è un gatto occasionally ma che vuoi a casa c'è un gatto non procisero ma va ma vai vai profuma sì sai senti che profumo sensi senti che profumo ma è la caglia la caglia la quinta provalo provalo Marco ah questo qui bisogna buttarlo dentro lì Dove è il cavalletto del Montese? Ecco, Montese a vecchio quello lì. A fare lì Marco, lascia stare lì, si riempie da solo. Non fa fatica, lascia lì. Troppo a fare fatica. Mettilo giù a fare il tavolino. Fai la trappola lì, fai la trappola. Se arriva il Fausto è il primo che va su questo, sicuro perché dici cazzo ma com'è facile lì. Rompiglielo in mezzo in due, rompiglielo in mezzo e mettilo di piano. Rompilo in mezzo, non si rompe cazzo. Rompilo te. Dai glielo mettiamo lì. Che deve cadere in piazza. Poi primo che ci vuole fa fare due litri di pensione. Quello è vero. Passalo il tero, non rompe. Guardami, guardami sti. Guardami che va interno. Guardami. Guardalo. Rampo. Per fare i trick. Dopo li devi fare. Dopo li vado dentro io qua. Così. Trappolino. Lasciolo in sede. È troppo largo. Vai, Spampi. Vai. Vai. Pronta la trappola. Ma come ti prende bene all'andare su? O no? E dai Faustio. Ma io perché l'ho troppo fatica. Poi questo glielo mettiamo qua. Oh, rotta la telecamera davanti. Dai, su. Aspetta. La rampa da reggiseno. Preparagli. Questo che lo fa chiede. E buttolo là. E buttolo là. E due. Dai. T'ho detto ma che andavo dentro io, cazzo. Dai lì. Adesso c'è l'autostratto. Basta, basta. Non ce la faccio più. Va bene, Spampi. Questa cosa è? La curva sexy. Quello è in bilico. E' questa scelta. Va bene, Spampi così. Non puzza più. Va bene la quarta. Ascolta. Io vado su dallo scivolo. Eh, vuoi sudo il cartoglio che ti sei fatto. Eh, fai la curva sexy. E qui? No, non avete voluto pulire quella l'acqua? È peggio. Adesso andiamo in su. E dovrebbero arrivare. Va che c'è un ferro e dito. Andiamo? Tagliamo che lì lì o... Sono fatto. Non dice un quarto. Poi... Grazie a tutti.